Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Capo hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP di Santa Maria Capo Avetere su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di tre persone, tutte destinatarie della misura cautelare in carcere, ritenute responsabili di numerosi furti in abitazione nella provincia di Caserta e nel comune di Fermo. Il provvedimento restrittivo costituisce l'epilogo di un'indagine condotta dai carabinieri della stazione di Vitulazio avviata nel mese di dicembre del 2022 e conclusa a maggio del 2023. Le attività iniziavano a seguito di un furto in abitazione commesso il 23 dicembre del 2022 da tre soggetti a bordo di un'autovettura presa a noleggio. Uno degli autori, sebbene claudicante, si arrampicò fino al primo piano dell'abitazione asportando fedi nunziali, bracciali, collane o ultradorologi preziosi. Ne è seguita un'indagine serrata che ha permesso di accertare in pochi mesi il fondamentale ruolo di questo soggetto di nazionalità albanese da molti anni radicato nel territorio italiano, il quale, abbalendosi di altri connazionali, organizzava furti in abitazione in altre località della provincia di Caserta e nel territorio del comune di Fermo. Il modus operandi utilizzato consisteva nel perpetrare furti in abitazione poste ai piani superiori, che raggiungevano arrampicandosi su grondaio tubi del metano quando in casa non vi era nessuno. Il preciso lavoro di raccolta e analisi dei dati GPS telefonici e telematici, nonché attraverso l'ascolto delle intercettazioni telefoniche, hanno consentito di trovare numerosi riscontri concordanti tra loro in ordine e numerosi furti in abitazione, che hanno portato alla formulazione di un preciso e univoco quadro probatorio circa la responsabilità dei tre soggetti colpiti dal provvedimento odierno e nei confronti di ulteriori due soggetti deferiti in stato di libertà.